L'idea è un po' nata nell'ambito del nostro progetto Mediterranean Hope che è iniziato nel 2014 con un osservatorio sulle migrazioni a Lampedusa e proprio a Lampedusa, scrutando questo mare che dovrebbe essere mare nostro ma in realtà è un mare di filo spinazio, in realtà è una sorta di deserto acquatico ci sono venute in mente le parole del profeta Isaia al capitolo 40 quando annunciando il ritorno degli esuli tra Babilonia invita a preparare nel deserto una strada che il Signore condurrà in patria e il suo compolo ecco la situazione oggi è diversa ma è quando noi ci sentiamo di fare nel nostro piccolo qualcosa di insimile cioè di preparare una strada nel deserto per i rifugiati perché fugge dalla guerra, dalla fata grazie